5-9 Ciao, Lazio, 7-3, attiva Arzad Italia, Kino 5, ecco Kino Lima Ecco Kino Lima E' l'efficio non falsa, pre' l'efficio non minima E' l'efficio non falsa, pre' l'efficio non falsa Attiva Arzad Italia, Kino 5, ecco Kino Lima Radio 6, Alpha, Alpha Radio 6, Alpha, Alpha, 5-9 Roger, Roger, Radio 6, Alpha, Alpha, 5-9 Thank you, 73, 2-1-5 E' l'efficio, Kino 5, ecco Kino Lima E' l'efficio, Kino 5, ecco 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 Kino 5, ec Grazie a tutti.